E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, buon lunedì, buona settimana. Come dicevo anche per un video precedente, noi questo lunedì ho pensato di rispondere ad alcune domande che ci sono sotto i video, anche per il caso di Liliana Resinovic, perché non riesco a farlo normalmente visto che mi giungono tante domande, mail, whatsapp, e quindi oggi facciamo in questo modo qua e vediamo quali sono le principali osservazioni che voi mi fate e un'occasione per parlare insieme. Quindi cominciamo subito con Danila Lamponi che dice qual è il senso di quelle scommesse probabili sul Gran Premio di Formula 1 e questo ce lo siamo dette più volte. Non possiamo nasconderci dietro al fatto che Liliana Resinovic quel giorno 12 abbia fatto delle ricerche compulsive sul Gran Premio di Abu Dhabi e lo abbia fatto anche la mattina seguente, prima della famosa telefonata di 16 minuti alla Suterpin e è qualcosa di clamoroso perché Liliana Resinovic non era mai stata un appassionato di Formula 1 eccetera, quindi una ricerca così composta ovviamente, dico io, il fatto che sicuramente abbia fatto qualcosa legato al mondo delle scommesse, non può essere un interesse così maturato in maniera improvvisa. Poi ci sta, mi scrive Domenico da Bruxelles che dice che personaggio da teatrino, lo Suterpin e fa tutti quei gesti col dito sotto l'occhio, questa gestualità diciamo di tipo eccessiva con quella voce che come se stessi dicendo qualcosa di importante, di convincente. Diciamo che certamente la figura dello Suterpin è caratteristica, è purtroppo un personaggio secondo me che recita la sua parte, soprattutto che ha cominciato a recitare la sua parte per una forma di difesa e lo doveva fare per forza, insomma, per accreditare questa storia. Il suo modo di agire suscita anche ilarità perché sembra quasi un personaggio della commedia che dava un spettacolo, quella che era in auge 70-80 anni fa, quindi somiglia a questo cabaret che va in onda sulle reti nazionali prima di trasmettere un film oppure una rappresentazione teatrale. Veramente qualcosa su cui non c'è da fare niente perché il gossip ha insomma queste sue regole, diciamo, Livia primavera dice non potrebbe essere che il fratello Sergio abbia appoggiato la tesi di Serpino per ereditare tutto ciò che è di Liliana nel caso di condanna di Sebastiano. Beh, certamente, certamente anche questo, c'è un odio atavico, un odio di vecchia data fra Sergio, la famiglia Resinovic e Sebastiano e questo si sa perché l'ha detto lo stesso Sebastiano che lui ha portato via la Liliana dalla famiglia Resinovic e questo non gli è stato mai perdonato, quindi il fatto che Sergio sposi le teorie di Serpino credo che sia, diciamo, inevitabile. poi c'è Gianfranco Paes che mi dice ma perché Sergio sposa la teoria di Serpino senza che Liliana gliene avesse mai parlato eppure parla di codici segreti in cui Sebastiano non doveva sapere eccetera 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 e abbiamo già risposto in parte a questa domanda qua certamente bisogna riflettere sul fatto che Sergio aderisce da subito alla teoria di Serpino pulso dicendo delle cose importanti cioè ci parla di questi codici segreti in cui lui stesso riferisce che la sorella ha detto però mi raccomando non dire niente a Sebastiano perché lui di queste cose non sa niente e poi gli dà altri 1600 euro in una busta dicendo non ti preoccupare tanto noi ce ne abbiamo ce ne stanno tanti insomma questo fatto di e poi se mi capi se mi dovesse succedere qualcosa quindi lei aveva pochi giorni prima questa questa preoccupazione questa premonizione che le sarebbe potuto succedere qualcosa e questo qualcosa di non direttamente legato vedete al al Sebastiano perché altrimenti se già avrebbe potuto dire io temo che Sebastiano possa fare qualcosa invece no l'ha tenuto completamente fuori Anna Otti mi scrive non potrebbe essere vittima di liana di un litigio finito male io credo di no questa ipotesi è stata fatta soprattutto da da Fulvio Covaleto che dice che l'illiana lì in quella zona le boschette avrebbe potuto incontrare qualcuna una violenta discussione una lite tutto è possibile per carità in linea teorica però non non vedo perché insomma una lite ma con chi dietro appuntamento in questa zona qui per litigare ma per quale motivo non può essere non c'è poco probabile secondo me sta cosa qui poi ci sta un altro amico che usa un user anonimo che dice che sottolinea le contraddizioni eh di di Sebastiano soprattutto ecco ora sapete io ho sottolineato le contraddizioni di tutti sia di Sebastiano che eh che di Serpina di Claudio perché ritengo di di essere oggettivo obiettivo di non prendere parte per nessuno perché Sebastiano sicuramente c'ha queste sue contraddizioni anche molto clamorose adesso se ne esce ultimamente un infatto del di una Liliana così turbata che piangeva eccetera il problema qual è il problema di Sebastiano delle sue contraddizioni è che lui dice non dice ma sempre perché alla fine non vuole arrivare a quello che eh lui sa quello quello che lui sa indirettamente su su sulle vicende sulle vicende sulle vicende di di Liliana perché ritiene di non dover dire niente di non di non di non di non dover scoperchiare questo vaso di Pandora ma le contraddizioni di Sebastiano non sono superiori a quelle a quelle di 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 Serpina che eh parla diciamo eh non ha parlato della cantinola per tanto tempo della soffitta eh non ha parlato non ha parlato insomma di questa storia d'amore che che all'inizio era soltanto così saltuaria era ogni 15 giorni fare una stirata di camice poi man mano eh man mano eh aggiunto dei particolari incredibili ora speriamo che vi devo dire che eh la dottoressa Cattaneo possa fornire degli elementi nuovi che gettino luce ma eh questi due personaggi Serpina e Sebastiano non credo che spontaneamente possano contribuire ad andare verso la verità ecco Maria Luisa dice eh qual è meglio che ai fini della verità che sia mostra il quattordici dicembre o il tre gennaio sia sia mostra per asfissia con la violenza sul viso cosa servirà per risolvere questo caso ora vi ripeto quello che dirà la dottoressa cattaneo sarà importante sicuramente però non vorrei fosse inutile perché siamo sempre a ragionare sulle stesse cose ora se il corpo eh cioè se è deceduto il quattordici dicembre o è deceduto il tre gennaio ma se riconduciamo tutto sempre al fine che questa donna doveva andare a quest'ipotetica storia d'amore con Serpino noi non capiamo un danno dal buco sia se ci siano violente sul corpo sia se non ci siano e vi dirò di più anche se dovesse emergere da un'analisi particolare dei segni di congelamento per cui il congelamento dovrebbe escludere un suicidio no? Ebbene pure si arriverà a dire a considerare di dire no si è suicidata però poi qualche qualcuno così buono di cura ha visto questo corpo se l'è postato in un frigorifero e poi l'ha destituito pur di non andare a scovare nella vita privata eh che che non è la vita privata della donnetta che a 63 anni veniva colta dal bagliore della dello Serpino e qui è tutto lì è tutto lì è tutto lì ma fino a un certo punto potrebbe essere tutto un lavoro inutile perché non si cambia prospettiva e quello è quello è ora pure Emma Gregori si meraviglia che la procura ecco non non cambi il suo modo di vedere perché è convinta appunto di questo imbuto emotivo ma siamo lì siamo lì ma sicuramente questa cosa è qui l'imbuto emotivo non non esiste se se la mettiamo nell'imbuto emotivo allora c'è l'ipotesi del suicidio però poi c'è il muro di gomma da parte di amici eh dello Serpino della famiglia che dice no no era tutto pronto era tutto bello era tutto deciso lei era contentissima era una gioia era una pasqua e stavamo per partire lei era convintissima e quindi se è successo qualcosa è stato Sebastiano ma Sebastiano purtroppo è veramente uno che si è organizzato bene perché ha dimostrato proprio tutti i suoi movimenti di quella mattina soprattutto e quindi non può essere lui né ad averlo ucciso né ad aver conservato il corpo né ad aver potuto restituire il corpo per cui per cui non è stato lui insomma ad aver fatto qualcosa di male allora si dice chi è stato mister x no l'unico scopo di Serpino e company è quello di accusare Sebastiano non lo posso accusare allora la procura dice si vede che questa donna ci ha ripensato e loro non l'accetta e io da ieri vi dico ecco siamo al cane che si muove dalla coda gira e gira il suicidio no perché è stato Sebastiano Sebastiano non è stato è stato suicidio suicidio no è stato Sebastiano non si vuole cambiare prospettiva che è quella della prospettiva economica che Liliana era caduta in un brutto giro economico certamente a conoscenza dello Serpino perché ne sono testimonianze queste lunghe telefonate dei giorni precedenti di cui guarda caso di cui lui non ricorda nemmeno una parola poi lasciamo perdere la cantinola la soffitta che è il cimitero che sono luoghi che lui stesso ha definito da centro di smistamento quindi non sono luoghi ameni dove poter fare un incontro d'amore queste cose qua posti chiamati da lui stesso buchi buchi senza luce senza acqua ma come poter far credere alla dabbenaggine insomma di questa cosa qua comunque c'è una vecchia locuzione mi scrivono pure c'è una vecchia locuzione latina che dice electa una via non datur recursus ad alteram cioè praticamente scelta una via non ne fare altre quindi praticamente è una locuzione latina tipica della scelta fatta da Serpino che ha eletto questa strada di inventarsi la storia d'amore e la percorso fino in fondo per mascherare altri interessi la percorso fino a fino in fondo e il problema sapete qual è è che non solo gli credono ma questa questa storia cresce cresce piano piano come in un crescendo vagneriano da una volta ogni 15 giorni vedete voi cresce 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 diventa amore un amore quasi a luci rosse a luci rosse fra divano sedie sedute sulle ginocchia baci 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 sul collo baci sui capelli la jacuzzi gli buttano i sardoni poi fino fino all'uscita del decamerone perché lui ha preannunciato che può scrivere il decamerone delle storie che delle cose folli fatte con fatte con con Liliana da quando da quando non la vede vedete lui lui ha dichiarato che a quell'agosto del 2021 lui l'ha vista dopo tanto tempo al cimitero mia moglie l'ha mandata e da quel momento che lei andò ogni 15 giorni a casa sua no adesso parla del decamerone di tutto quello che lui ha ha fatto tutto quello diciamavamo le cose allora prima dice che ad agosto 2021 si vede per la prima volta poi dice che dopo tanto tempo che arriva man mano in questa sua versione a luci rosse a scrivere il decamerone che che aspettiamo l'uscita poi magari magari dopo il decamerone veda il camasutra il camasutra pure al limite ma in versione teorica però in versione teorica perché lui stesso ci ha raccontato di aver avuto grossi problemi fisici ci sarebbe diciamo da da sorridere su su questa cosa qui come è conciliabile che uno dica ci siamo rivisti due tre mesi prima della scomparsa per poi scrivere il decamerone veramente qualcosa che somiglia a un teatrino davanti spettacolo da ridere da ridere fino a avere le lacrime agli occhi vedete eppure i costi hanno fatto in modo che tanta gente credulona credesse questa questa stupidata diciamo la stessa gente che oggi si domanda vediamo un poco questi dvd di sebastiano cosa esce perché dicono che ci sono le le foto le foto che poi non si sa perché sebastiano dovrebbe avere le foto di libri di liliana con serpina forse chissà le le collezionava in modo esclusiva per un giorno poterle pubblicare ma sono fesserie pure queste amenità su amenità diciamo ma comunque andiamo alle ultime due domande vediamo un po daniele bauso che dice ma se esce il corpo congelato alla procura non potrà parlare di suicidio di questo pure abbiamo già detto vedrete che anche se dovesse uscire questo congelamento sarà senza spiegazione vedete perché un corpo congelato dovrebbe essere sicuramente richiamare la responsabilità di un'associazione di persone si dovrebbe immaginare sempre di più una deliana coinvolta in affari poco chiari per cui chi l'ha presa insomma poi può aver avuto il modo di organizzare un rapimento una detenzione oppure averla uccisa averla conservata averla restituire c'è una organizzazione di tipo criminale a monte invece no anche davanti a ciò vedrete che si dirà no e chissà addirittura è stato già detto chissà vediamo qualche pescivendo l'amico di sebastiano o qualche macellaio l'amico di sebastiano che magari avrà messo il corpo tre settimane nel frigorifero insieme insieme ai pesci insieme alla carne l'avrà tenuta lì e poi l'avrà restituita perché bisogna ricondurre tutto a quel giro là che vi dico io colpa di sebastiano è stato lui allora la procura vede che non può essere stato lui allora si è suicidata la donna vista che amava amava lo sterpino no assolutamente perché perché lo sterpino è sicuro eravamo felici eravamo alla vigilia lei era sorprendente felice entusiasta di questa nuova vita non può essersi suicidata allora è stato sebastiano ma sebastiano non è stato è stato accertato tutto tutti i suoi movimenti allora e si è suicidata allora no non si è suicidata perché lei era decisa di andare da claudio serpino era d'amore lei lei voleva cambiare vita voleva cambiare casa voleva andare da lui voleva vivere mano nella mano occhi negli occhi voleva voleva fare la casalinga a tutti i costi la casalinga era decisissima non può essere stato sebastiano sebastiano non è stato sebastiano non è stato sebastiano non è stato e allora suicida no non può essere vedete fino a quando dobbiamo ricondurre questo cerchio che gira 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 e siamo sempre allo stesso punto sempre che perché perché non si può non si vuole non si vuole percorrere l'unica pista che è la pista economica e ricordatevi la voglio dire pure io una massima stamattina ricordatevi questa massima qua si dice più facile ingannare una persona che convincere la stessa persona che è stata ingannata ecco e tante persone sono state ingannate da questa favoletta ed ora è difficile convincere che sono state ingannate per cui meglio arrivare a una aschipiazione anche per suicidio purché non si vada a indagare in in altra direzione l'ultima che voglio dire è carla pozzato che dice perché si sottolineano le contraddizioni di sebastiano e non quelle di serpino come il non ricordo delle telefonate di questo pure ne abbiamo parlato è incredibile vedete se fosse capitato che quella mattina o il giorno prima l'iliana avesse parlato 16 minuti con sebastiano e sebastiano adesso si fosse presentato in tv a dire di quei 16 minuti non ricordo nemmeno una parola che ha detto mia moglie l'avrebbero preso e l'avrebbero messo direttamente in prigione perché dice allora tu cosa ci vuoi nascondere e se non ti ricordo nemmeno una parola invece in questo caso qui in cui c'è 16 minuti non si ricorda una parola poi c'è un'altra telefonata di qualche giorno prima di 12 minuti non si ricorda nemmeno una parola passa in cavalleria è normale chissà cose che non si ricordo ecco e quindi perché perché si deve andare e continuare su questa speculazione va bene ma quindi queste diciamo per oggi la finiamo qua con ho risposto un po' a delle delle osservazioni diciamo sono su questo caso un po' deluso un po' negativo nel senso che non vedo alternativa alla conclusione per all'archiviazione perché qualsiasi elemento per dalla dalla cattaneo se non si cambia prospettiva possiamo fare tutte le deduzioni del mondo può essere mostra in qualunque data e con qualunque elemento però però insomma non non se ne capo un danno dal buco finché non si cambia prospettiva questo è quanto grazie amici miei vi auguro buona lunedì buona settimana buona giornata condividete il video con tutti i vostri amici e vi do un abbraccio caloroso a tutti quanti voi